Gentili telespettatori, buona giornata. La Meloni dice che comincia la fase 2 ed è la più importante. Ma cos'è sta fase 2? Si riferisce al PNRR. Itralia dice prima per obiettivi raggiunti, inizia la fase 2, la più importante, e così fa una riunione della dirigenza che si occupa di questo piano di ripresa e resilienza nelle prefetture, un po' come se fosse Antani prefettura, vice sindaco. Quindi PNRR è l'acronimo, il PN vuol dire piano, RR vuol dire ripresa e resilienza. Quindi PNRR significa piano di ripresa e resilienza, anche se non ve lo ricordate e fa niente. E così la Meloni dice entriamo nella fase 2. del PNRR, la più importante, quella della concreta attuazione delle riforme e della messa a terra di tutti gli investimenti strategici. Questa fase 2 è fondamentale rendere più efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nello stesso territorio e migliorare l'attività di supporto agli enti territoriali, anche promuovendo le migliori prassi. Devo dirvi una cosa. Due cose che la Meloni ha fatto egregiamente sono queste. Contrasto all'immigrazione clandestina e PNRR. Io non ci avrei scommesso né un centesimo qua e né un centesimo là. Con tutta la fiducia che avevo quando è cominciato questo governo, quando ho visto il blocco navale che non se ne è parlato più, ho detto, oh mamma. E quando ho visto i 200 miliardi che dovevano arrivare, sapendo che l'Italia è famosa in Europa per essere il paese che non è mai riuscito a spendere i soldi dell'Europa, sapete che nei decenni l'Europa ha mandato soldi e noi li abbiamo rimandati indietro perché non eravamo capaci a spenderli. Voi direte, come? Eh sì, cosa succedeva? Non so, arrivavano i soldi per fare un'opera in Sicilia, in Calabria o chissà dove, arrivavano i soldi nel comune Cippalippa e il sindaco del comune Cippalippa dice è arrivato un miliardo, dobbiamo fare quell'opera. Per fare quell'opera l'Europa ha bisogno di piani operativi, piani strategici, consuntivi, progetti, valutazioni, persone che poi realizzano l'opera e il comune Cippalippa diceva e noi non abbiamo nulla di questo, non abbiamo le persone, non abbiamo le competenze, non sappiamo principalmente da che parte girarsi. Certo che tutti quei soldi potevano rendere il comune di Cippalippa attivo economicamente, far girare l'economia, assunzioni, aziende, subappalti, insomma un volano gigantesco. Che cosa succedeva in Italia? Che tutti questi comuni, che chiamiamo così per convenienza tutti questi Cippalippa, dicevano, vabbè dai, fai scadere i tempi, rimanda tutto indietro perché non abbiamo modo di costruire queste opere. Ecco, l'Italia è famosa e l'Europa ci ha sempre ridacchiato dietro come dire ma guarda questi qua, gli mandiamo i soldi a morti di fame, a morti di fame, ma mi mandiamo pure i soldi e voi ce li rimandate indietro, ma come state messi? Voi immaginatevi uno del nord Europa dove sono tutti seri, tutti che fanno le cose fatte per bene, onesti con la schiena dritta, dice come? Gli mandiamo a quelli là, miliardi e miliardi, per fargli sviluppare il centro-sud che è un po' lontanuccio dagli standard europei, questi che fanno ci rimandano indietro i soldi, a morti di fame, no? A morti di fame. Ecco, questo è quello che abbiamo sempre fatto e quando la Meloni dice aspetta un momento che adesso stavolta i soldi li dobbiamo spendere, io ho detto sì vabbè, buonanotte, vedrete che col PNRR andremo contro, dritti contro un muro, proprio ci richiederanno indietro i soldi, faremo una figura terrificante e invece il governo nonno Meloni è riuscita a continuare a farsi mandare i soldi, l'Europa ce li sta mandando, sta valutando che stiamo facendo i compiti a casa, io poi non lo so se li stiamo incartando su e gli facciamo vedere quello che non è, non lo so. Non lo so. Sta di fatto che per l'Italia riuscire a spendere 200 miliardi rispetto alla situazione che vi raccontavo prima del comune Cippalippa che rimandava tutto indietro, riuscire a spendere 200 miliardi su tutta Italia secondo me è un mezzo miracolo. Poi vediamo se ce la facciamo veramente, perché io sentivo dire l'Europa ci manda i soldi ma noi stiamo facendo praticamente niente, gli stiamo dicendo sì sì adesso stiamo facendo... ecco quindi non vorrei poi fra qualche tempo rimangiarmi tutto e dire non abbiamo fatto niente adesso rivolgono indietro i soldi, anche perché non ce l'avremmo mai i soldi da ridare indietro. Quindi sono rimasto favorevolmente colpito sul PNRR e poi rimasto colpito anche sull'immigrazione. Campagna elettorale, blocco navale e c'era anche la parola subito, come dire subito, blocco navale ma subito. Appena eletti io dicevo beh adesso sto subito sarà settimana prossima, adesso farà un annuncio, la flotta italiana è salpata dalle basi militari per fronte... adesso vedrete ci sarà l'annuncio del blocco navale subito. Per mesi non hanno detto mai nulla, non ci avevano fatto sapere, non ci fecero sapere se lo avevano bloccato sto blocco navale per i costi, perché non si poteva fare, niente, semplicemente nessuna, nessun commento ha detto mamma. E invece anche lì come col PNRR sono rimasto colpito dal fatto che la Meloni, vabbè piano Mattei, adesso buonanotte, sono quelle robe che ci vogliono a 200 anni, sono quelle cose un po' utopiche. E invece zitta zitta la Meloni con l'Europa è andata lì, li ha riempiti di soldi, ha detto io vi diamo i soldi ma fermate le partenze. E quelli stanno fermando le partenze. Quindi la Meloni mi ha stupito sul PNRR e sull'immigrazione. Vorrei che questa volta la Meloni mi stupisse sul salario minimo. Forza Meloni, PNRR ok, immigrazione ok, adesso salario minimo. Siamo i peggiori in Europa, abbiamo degli stipendi da terzo mondo. Bisogna sistemare subito questo. Ho capito che bisogna lasciar fare le aziende ma non bisogna neanche permettere alle aziende di avere degli schiavi e non degli italiani che lavorano. Ecco, quindi va bene, adesso andiamo avanti con il salario minimo che lei vuole chiamare equa remunerazione. L'aveva già detto che l'avrebbe fatto? Sto aspettando. Arrivederci a tutti e grazie.